Paolo, direi obiettivo raggiunto perché questa era una partita video molto importante però avete secondo me meritato di vincerla e quindi avete raggiunto forse la finale che era il vostro obiettivo Allora, ti ringrazio intanto perché un parere tuo è sempre importante visto che sei un giornalista di partite nei viste e devo dirti sì, a questo punto obiettivo vinto la temevamo tantissimo perché da davanti c'ha tre attaccanti veramente forti però ci siamo resi conto di essere anche una squadra solida nelle ultime due partite non abbiamo subito gol perché quando sia Pelina che qua è finita 2-0, 2-0 dunque un bel segnale, via avete anche rischiato poco, avete avuto l'opportunità di raddoppiare insomma un risultato che ci può stare perché se state più concreti nelle due occasioni più grosse della partita l'avete messa dentro sì, più grossi più importanti anche perché il primo tempo, vabbè, il primo tempo è gol su calcio d'angolo poi dopo loro sono usciti, hanno sbagliato anche loro qualcosina davanti però la differenza in questo gioco qua la fa chi la mette dentro il rettangolo bianco e noi siamo stati bravi lì domenica prossima a Baeso, c'è un valestra che avrei sicuramente visionato ieri sera come la vedi? la vedo come tutte le altre partite massimo rispetto perché loro sono una bella squadra, l'hanno dimostrato e poi dopo andiamo in campo noi ci mancherà un esterno che va in Inghilterra adesso lo sostituiremo sicuramente e poi dopo massimo rispetto per loro perché sono una bella squadra poi